Colli Senza Frontiere è l'evento sportivo più esclusivo, gogliardico e sentito dell'estate pescarese. Dal 24 agosto al 1 settembre torna la scatenata sfida all'ultimo gioco che vede protagoniste le rappresentative degli otto colli pescaresi. Nonostante la crisi Castellammare in festa c'è? C'è, Castellammare in festa è presente con Colli Senza Frontiere per la sedicesima edizione. L'oliatissima macchina organizzativa è già al lavoro, lo staff è pronto a partire a tutta birra per portare al successo anche questa sedicesima edizione. La manifestazione ideata è organizzata dall'associazione Castellammare in festa ed è stata presentata questa mattina presso la taverna antica dietro la Basilica dei Sette Dolori. Dal presidente dell'associazione Castellammare in festa, Maria Rita Carota, i componenti del direttivo, il presidente della cooperativa sociale Aurora Valori e Sapori, Carlo Pepe e gli sponsor. Presenti tutti i capitani delle otto squadre dei Colli, Madonna, Cervone, Caprino, Innamorati, Scorrano, Pietra, Marino, Di Mezzo. Alle sue spalle un trofeo andato in pensione nel 2010, sarà un nuovo trofeo e chi se la giudicherà quest'anno? Qual è la squadra più forte? Sappiamo che tutte le squadre si stanno preparando, sono veramente molto impegnate a reclutare atleti giovani e meno giovani. Sicuramente sarà una bella festa, non sappiamo chi vincerà, non ci interessa perché per noi l'importante è far divertire le intere famiglie e far rivivere questa piazza Largo Madonna. La simpatica competizione si svolgerà principalmente nella zona di Largo Madonna da sabato 24 agosto a domenica 1 settembre. A contendersi il palio saranno le squadre rappresentanti degli otto Colli cittadini, ognuna con il proprio colore di riferimento. Come ogni anno, per nove giorni filati, il quartiere sarà animato da sfide sportive, tornei, giochi di gruppo, musica, balli e spazi conviviali. Il tifo del pubblico, sempre numeroso e scatenato, farà da cornice alla festosa manifestazione delle gare. Quest'anno il trofeo sarà straordinario, è l'ultima opera del maestro Pino Dolente, ma ci sarà ancora una volta la partnership con la cooperativa sociale Aurora Valori e Sapori. Ci sarete? Certo, siamo qui con piacere per il secondo anno, siamo con i nostri ragazzi. Vorrete assaggiare qualcosa, sì? Quest'anno proponiamo il cornetto caldo attorno alle 10 della sera, delle granite ottime e dei caffè espressi fatti dai nostri ragazzi. Nessun doping, no? No, no, sicuramente no. Doping magari di arrosticini, di... Qualche buon bicchiere di vino. Sicuramente.